Questa che vi raccontiamo è una storia incredibile e vergognosa, ma vera. Una storia che ha messo in discussione per diverse ore la trasparenza e la certezza del risultato elettorale al Comune di Campobasso. Il dato definitivo giunto in Prefettura alle 3 di notte dopo 13 ore di scrutinio aveva ribaltato la volontà degli elettori i quali avevano indicato per il ballottaggio Maria Domenica d'Alessandro per il centrodestra e Roberto Gravina per il Movimento 5 Stelle. Il dato ufficiale invece indicava al secondo posto il candidato del centrosinistra Antonio Battista il quale peraltro intorno alle ore 22 aveva già ammesso pubblicamente di essersi collocato alle spalle di Roberto Gravina. Il giallo è rimasto tale sul sito ufficiale della Prefettura di Campobasso e del Ministero dell'Interno dalle 3 alle 9 del mattino quando la stessa Prefettura ha diffuso un ridicolo comunicato nel quale è scritto testualmente. Si comunica che i dati pubblicati dal Ministero dell'Interno riferiti ai risultati delle consultazioni per l'elezione del Sindaco e del Consiglio Comunale a Campobasso sono stati rettificati dal Comune Medesimo e tale rettifica è stata pubblicata sul sito ministeriale. La rettifica riguarda i voti riportati dai candidati sindaci secondo i dati di cui all'allegato elenco. Fin qui la nota della Prefettura di Campobasso che di fatto scarica tutte le responsabilità dell'accaduto sul Comune. Orbene la realtà è totalmente diversa poiché il materiale consegnato dalla Prefettura al Comune di Campobasso per la successiva distribuzione ai seggi era in molti casi incompleto e soprattutto nelle tabelle di scrutinio non era prevista la possibilità di assegnare il voto disgiunto ai candidati sindaci. In sostanza la Prefettura di Campobasso ha consegnato tabelle di scrutinio non adatte al voto comunale ma solo a quello regionale dove la possibilità del voto disgiunto è stata abolita. Di certo nei prossimi giorni la notizia farà il giro sugli organi di stampa nazionali e di certo sarà l'ennesima barzelletta che sbeffeggerà i molisani. Forse il prefetto di Campobasso Maria Guia Federico così solerte nel segnalare al Governo una presunta illegittimità sulla legge regionale per l'editoria che invece chiariva una norma applicata in modo ingiusto dalla parte politica come già accertato da Tar Molise farebbe bene a chiarire la vicenda elettorale e se il caso a chiedere scusa agli elettori di Campobasso. Sarebbe anche il caso che il prefetto di Campobasso Maria Guia Federico si dedicasse con più attenzione alle sue prerogative istituzionali tipiche quali la gestione delle elezioni, la sicurezza dei cittadini anche rispetto ad evidenti infiltrazioni malavitose e alla tutela dei lavoratori in difficoltà. A sua volta il Ministero dell'Interno farebbe bene a valutare la possibilità di sostituire Maria Guia Federico al vertice della Prefettura di Campobasso.